Un colpo rimasto in canna, di cui nella migliore delle ipotesi, che non cancellerebbe le responsabilità di chi si è occupato del tesseramento, il calcio Avellino non potrà godere, in termini di prestazioni sportive, per un minimo di tre partite, ovvero quella già saltata con il Città di Anagni, alla quale si andranno a sommare, inevitabilmente, quelle contro il Cassino, domenica prossima, e l'Atletico Freggene-Focene. E sì, perché il caso Alfagheme finirà dinanzi alla Commissione del Tribunale Federale Nazionale, che discuterà il ricorso della SSD solo il prossimo 4 febbraio. Danni su danni, e non ovviamente per colpa del TFN, ma per l'Avellino, che dovrà verosimilmente temporeggiare fino a quella data, prima di procedere a sostituire il calciatore, in caso di fumata nera, e per il calciatore stesso, che aspetterà. Nonostante tutto, avrebbe sì tempo dopo un ulteriore svincolo per accasarsi in un'altra squadra entro il 28 febbraio, ma nel contempo ha già perso l'ingaggio percepito con la casertana, e tempo con l'inconvenza di trovare una nuova sistemazione in tempi ristretti, in caso di definitivo no della giustizia sportiva. Se non altro, è finito lo stilicidio mentale del quando si saprà, ingenerato dal silenzio tattico, o almeno così ufficiosamente motivato, della società in orbita Sidigas. Sia chiaro, altra proprietà, ben altra storia, ma si torna nelle aule di tribunale a Roma, ed è un fastidioso déjà vu. La società ha chiesto di partecipare al dibattimento. La tesi difensiva irpina, nonostante il tesseramento oltre i termini scaduti il 31 dicembre scorso, data l'assenza dello status di comunitario o cittadino italiano, verterebbe principalmente sul sostenere che per Alfageme si tratta del secondo tesseramento stagionale e che non è proveniente da federazione estera, giocando da 14 anni in Italia, dopo una parentesi in Danimarca.